il mio bisnonno mario un giusto tra i giusti il mio bisnonno mario denardis nacque all'aquila nel 1906 e vi morì nel 1964 era sposato e debito e figlio era diplomato ragioniere e lavorava alla questura dell'aquila alla sua morte mio nonno raffaele ritrovò dei documenti conservati nel suo ufficio in questura da questi scritti mio nonno scoprì quanto aveva compiuto suo padre durante la seconda guerra mondiale durante il fascismo e la conseguente invasione tedesca questa è la dichiarazione originale sottoscritta la vigia del secondo anno della liberazione nel 1946 dagli ebrei ancora residenti all'aquila ovvero i huger i biling i siger gli spitzer ed altri che riusciano questo attestato autografo in cui si dichiara che oltre ad avvisare i perseguitati degli imminenti estrellamenti mario denardi si munì spesso di documenti ricanti farse generalità di rifornini vivi relazionati che essi non potevano acquistare perché sprovvisti di tessi annonare giunge e giunse persino a ospitarvi in casa propria nei momenti più pericolosi con grave rischio per sé e la propria famiglia per facilitare la lettura ho trascritto questa dichiarazione dove ho sottolineato i passaggi più importanti questo è l'originale di un telegram inviato l'11 agosto 1947 a mario denaldis dall'associazione emigrati ebreici in cui veniva ringraziato per il suo operato mentre questo è l'originale del certificato di gratitudine inviato a mario denaldis da parte del comandante inglese Harold Rupert Alexander comandante superiore delle forze armate al mediterraneo per l'aiuto dato agli alla morte del mio bisnonno mario la signora grette siger una degli ebrei aiutati dal mio bisnonno mario ha donato il suo nove e dieci alberi che vengono piantati in israele in diversi giornali e in alcune pubblicazioni vengono riportate le gesta coraggiose del mio bisnonno mario renaldis eccone alcune questo fu il mio bisnonno mario il quale non voltò la testa dall'altra parte ma dietro prova di grande senso di umanità e di altruismo questo fu il mio bisnonno mario il quale non è ovunque niente non è ovunque niente